Buonasera uochi. Oggi affronteremo con la consueta razionalità e coerenza un argomento che riguarda la seduzione femminile. Parleremo del concetto di debole resistenza. Dobbiamo comprendere che quando ci approcciamo ad una donna è importante il modo in cui comunichiamo ma ciò non riguarda solo le nostre parole ma anche le nostre movenze e il modo in cui intoniamo la voce. Tanti elementi che comunque danno spessore alle nostre parole, ai nostri concetti, a ciò che siamo. E la psiche femminile ovviamente coglie tante di queste cose. Ok sicuramente lo abbiamo sempre detto sono importanti i prerequisiti di attrazione per cui una donna è tratta da status, da potere economico, da bellezza. Tutte cose che comunque in questo episodio diamo per assodate. Parliamo però anche di altro. Parliamo anche di come il modo di comunicare può essere impattante. E cos'è il concetto di debole resistenza? Allora alcuni di voi mi hanno scritto determinate volte in chat su instagram di come alcune donne ad un certo punto si fermassero oppure loro avevano paura di andare oltre, di avvicinarsi troppo, di osare un bacio o anche di portare gradualmente quell'approccio intimo che può essere un abbraccio, un bacio a qualcosa di più. intimo. Bisogna comprendere che le donne comunicano in maniera un po' criptica, un po' sibillina. Cosa accade? Noi dobbiamo essere in grado di muoverci un po' come degli squali intorno alla preda. Cosa fanno gli squali? Girano in modo circolare, almeno così è nell'immaginario collettivo, e poi attaccano la preda. Non seguono una traiettoria dritta. Questo cosa significa che nel momento in cui ci troviamo ad avere a che fare con una ragazza, dobbiamo essere abili ad utilizzare dei metodi indiretti. Quindi nell'approccio fisico possiamo notare da parte di una donna una debole resistenza. Cosa significa? Che magari nel momento in cui proviamo a baciarla, lei si ritrae, oppure nel momento in cui già ci troviamo in una fase un po' più avanzata e tentiamo di fare quel passo in più, lei mette la mano sulla nostra mano, ci trattiene. Noi dobbiamo essere in grado di comprendere questi tocchi. Perché determinate volte questi tocchi sono leggeri, sono molto deboli. In quel caso la donna è come se seguisse una sorta di copione. Deve in un certo senso resistere alla sessualità prevaricante dell'uomo. Perché in quel modo l'immagine di sé, quella che comunque restituisce all'uomo, è quella di una donna che comunque si trattiene. Oppure poi, per tutta una serie di ragioni, magari vuole restituire l'immagine di essere una che determinate cose non le fa, oppure è proprio lei che in quel momento vive un conflitto interno per cui vorrebbe fare determinate cose, ma si sente trattenuta da vincoli morali, da tanti pensieri. In quel caso ovviamente con estrema delicatezza dobbiamo rispettare la volontà femminile, dobbiamo rispettare i suoi spazi, dobbiamo rispettare la dignità di una persona. Ma da seduttori ovviamente dobbiamo comprendere questo tocco. Perché questo tocco delicato è anche una debole resistenza che nasconde quel significato ok, puoi proseguire, puoi fare di più. Ti sto trattenendo ma perché sto seguendo uno schema. È un po' contorta la cosa perché alcuni uomini, bravi ragazzi, in questa fase si bloccano, si fermano perché temono di andare oltre, perché pensano che la ragazza li stia trattenendo. Ma in realtà sta seguendo lo schema della debole resistenza. Facciamo un esempio. Nel momento in cui iniziate con il bacio, lei vi bacia a sua volta, ma magari fa un po' la stupida dicendo no dai, non ancora, e vi continua intanto a baciare. oppure nel momento in cui poggiate la mano sulla gamba per una carezza, lei magari mette la mano sulla vostra, come per trattenervi, ma nel momento in cui voi iniziate con una piccola carezza, lei non toglie la mano, non la stringe, non si rigidisce, ma la mantiene in appoggio. Questo significa che comunque quella è una debole resistenza e in questa fase c'è bisogno dell'intraprendenza maschile che non si lascia spaventare da questa debole resistenza, perché in altre situazioni può accadere che alcuni uomini, magari più molto buoni, bravi ragazzi, si spaventano di questa cosa. Poi cosa accade? Che se l'uomo si ritrae ad un certo punto, la donna tende molto a vivere emotivamente queste situazioni. Per cui cosa interpreta poi quando torna a casa? Che non è scattata la scintilla, che non c'è stata chimica, alchimia, e molto probabilmente magari poi non prosegue, perché una donna ama vivere di sensazioni. La debole resistenza è anche un modo per intensificare quella sensazione, perché tende poi ad attribuire maggiore intensità a quel momento, perché se poi noi riusciamo a entrare pian piano nella prossemica della donna, quindi ad avvicinarci, ad avere un rapporto molto più intimo, lei interpreta questa cosa come un ok, se è arrivato fino a qui, vuol dire che c'è qualcosa, c'è stata attrazione. La donna interpreta molto questi segnali, queste sensazioni. Ricordiamo che è molto importante nella comunicazione con la donna il proprio modo di parlare, la propria gestualità, il proprio modo anche di toccare la delicatezza, ma allo stesso tempo ci vuole fermezza. Quindi bisogna coadiuare le due cose, unire. bisogna essere sia forti, ma allo stesso tempo anche avere quella gentilezza nei confronti della donna, e quel rispetto ovviamente, perché poi si deve essere un po' un mix tra il fare un po' lo stronzo, ma essere allo stesso tempo un galantuomo. Uomini, io vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio, vi ricordo che c'è una community Telegram composta unicamente da uomini, potete contattare me o il moderatore per accedere, e inoltre vi ricordo i canali social di Essere Uomo, che sono Spotify, Instagram, TikTok, ma cosa è più importante, iscrivetevi al canale YouTube, perché in questo modo mi supporterete davvero tantissimo, e approfittate della sezione commenti per aprire un dibattito, magari ne discutiamo qui nei commenti su YouTube, e ci sentiamo ad un prossimo episodio. Ciao uomini! Grazie a tutti!